cari amici dopo essersi presentato come la vite vera a cui noi tralci per vivere e portare frutto dobbiamo essere uniti bene in questa prosecuzione del vangelo di giovanni nel brano di questa domenica gesù ci consegna il comandamento dell'amore perché il tema centrale di questa domenica è proprio l'amore l'amore di dio meglio l'amore che è dio come ci testimonia san giovanni vediamo però di capirci qualcosa in più in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli come il padre amato me anch'io ho amato voi ma chiediamoci come ci ha amato il padre ce lo ricorda ancora san giovanni nella sua lettera in questo dice si è manifestato l'amore di dio in noi dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di lui chiediamoci poi come ci ha amato il figlio ce lo dice san paolo nella lettera ai galati il figlio di dio mi ha amato e ha consegnato ha dato se stesso per me bene allora ricapitolando come il padre amato me anch'io ho amato voi rimanete nel mio amore e allora come rimanere nel suo amore rimarrete nel mio amore dice se osserverete i miei comandamenti e quali comandamenti questo è il mio comandamento dice gesù che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi nessuno dice ha un amore più grande di questo dare la sua vita per i propri amici voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando e cosa ci comanda gesù bene questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri più chiaro di così gesù non poteva essere ciò che però potrebbe sfuggire a prima vista è il flusso di questo amore come il padre amato il figlio così anche il figlio gesù ha amato noi e così come gesù ha amato noi anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri si tratta allora di passare dal dono di un amore ricevuto gratuitamente al compito di un amore in cui rimanere e da diffondere dunque quello dell'amore è sì un comandamento tuttavia non è qualcosa che ci abbiamo ricevuto e la cui diffusione è una conseguenza più che un comandamento dice infatti san giovanni carissimi amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da dio non dice amiamoci gli uni gli altri perché dio ce lo comanda così semplicemente ed in maniera asettica io ordino e tu fai no le cose non stanno proprio così chiunque ama dice è stato generato da dio e conosce dio chi non ama non ha conosciuto dio perché dio è amore dunque chi non ama non conosce veramente dio e qualcun altro potrebbe dire ma io non sono capace di amare è troppo difficile non ci riesco e come dargli torto perché non siamo effettivamente noi la fonte dell'amore noi non siamo capaci di amare per noi stessi per le nostre capacità e questo gesù ce lo ricordava domenica scorsa chi rimane in me e dio in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla o quantomeno nulla di buono per questo ho voluto insistere all'inizio sul discorso riguardante il flusso dell'amore il padre ama il figlio il figlio ama noi e anche la liturgia della parola di questa domenica ce lo chiarisce limpidamente scrive infatti giovanni in questo sta l'amore non siamo stati noi ad amare dio ma è lui chiamato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati e gesù nel vangelo sembra continuare non voi dice avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga gesù dice che ci ha costituiti perché portiamo frutto dunque non ci sta comandando qualcosa al di fuori della nostra portata già la settimana scorsa ci diceva che solo rimanendo uniti come tralce alla vite possiamo portare frutto frutti di conversione e frutti di carità uniti a lui che ci dà la forza per realizzare tutto questo e che forza la forza di un amore ricevuto gratuito immeritato infinito l'amore di un dio che ci precede e la forza dell'esempio di chi ha dato la vita per noi e con non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici tuttavia qualcuno potrebbe ancora dire che un conto è vedere fare qualcosa altro e farla e che non tutti possono essere in grado di farla non tutti per esempio vedendo realizzare un gol in rovesciata sanno fare altrettanto bene riguardo all'amore non è la stessa cosa non si tratta soltanto di qualcosa da fare o da replicare non abbiamo ricevuto soltanto un esempio per grandioso che esso sia ma abbiamo ricevuto l'amore stesso di dio l'amore tra il padre e il figlio l'amore che procede dal padre e dal figlio ovvero lo spirito santo perché come dice san paolo nella lettera ai romani l'amore di dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello spirito santo che ci è stato dato e dunque l'amore di dio non è soltanto un comandamento ma una forza viva che agisce dentro di noi che non ci dice soltanto cosa dobbiamo fare o non fare ma ci spinge a realizzare a mettere in pratica il comandamento dell'amore lui che è lo stesso amore a patto che noi lo lasciamo agire in noi attraverso di noi che da soli non possiamo fare nulla mentre uniti a lui possiamo portare molto frutto perché questo incessante flusso dell'amore trinitario che parte dal padre che giunge a noi per mezzo del figlio attraverso il nostro prossimo ritorni a dio perché la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia piena siano lodati gesù e maria